La calopsitta è l'uccello più piccolo della famiglia dei cacatua. Sono noti per le loro caratteristiche piume appuntite, cucma sulla testa, che tengono in posizione verticale. I colori delle piume variano, ma molto spesso sono grigie con macchie gialle o arancioni. I maschi hanno spesso un aspetto più colorato delle femmine, con le guance dai colori vivaci e una macchia nera alla base della coda. Sono originari dell'Australia, dove abitano una varietà di habitat, tra cui foreste aperte, savane e semi deserti. Sono uccelli monogami che vivono in coppie o in piccoli gruppi. Sono intelligenti e possono essere ottimi animali domestici, noti per le loro personalità curiose. In natura si nutrono di una varietà di cibi, inclusi semi, frutti, fiori e materiali vegetali. Come animali domestici, possono essere nutriti con cibo commerciale per pappagalli, frutta, verdure e occasionalmente altri alimenti sicuri. Come animali domestici, richiedono un certo livello di attenzione e interazione da parte dei loro proprietari per rimanere felici e in salute. Per ulteriori informazioni visitare il sito papagopark.com. Grazie per l'attenzione.